Stava compattando cartone alla sede dell'azienda dei rifiuti quando è stato agganciato dal macchinario ed è rimasto con entrambe le gambe schiacciate. Un operaio di 50 anni della ditta base SRL di Bagni di Lucca è in gravi condizioni dopo l'incidente avvenuto stamani attorno alle nove e mezzo alla sede in località Ravacce in via Val di Lima. Secondo una prima ricostruzione il dipendente di base si trovava al lavoro al compattatore nel piazzale esterno come faceva ogni giorno. Un gesto divenuto automatico ma stamani qualcosa è andato storto. Stretto in quella terribile morsa l'operaio è stato soccorso da altri colleghi che hanno dato l'allarme facendo scattare l'intervento delle ambulanze e dell'eli soccorso. Sono stati i vigili del fuoco intervenuti da Lucca con una squadra a liberarlo poi è stato trasferito con il codice rosso in ospedale. Sul posto invece i tecnici della prevenzione degli infortuni sul lavoro dell'ASL hanno svolto gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.